Buongiorno e bentornati a Oragioni Avvocati. Buongiorno e bentornati a Oragioni Avvocati. Buongiorno e bentornati a Oragioni Avvocati. Un testo teatrale, una pista teatrale, testo di Alessandro Brusti e Emanuele Ruggerone, la voce narrante di Massimiliano Perticari e la musica di Roberto Bassetti, musicista che conosco da tantissimi anni. Confessioni di un imputato nell'anno 2039. Ma come è possibile che nel 2039 ci sia ancora qualcuno che debba rispondere magari di reati commessi adesso o poco prima? Non c'è un istituto che è chiamato quello della prescrizione per cui a un certo punto i reati si cancellano, lo Stato non ha più interesse a punirli? Oppure questo istituto è stato a dismisura, allungato per consentire allo Stato di punire i colpevoli il più a lungo possibile? Antonio, non è che è stato allungato, è stato assassinato, è stato sostanzialmente soppresso. Perchè, se posso incominciare, una legge entrata in vigore nel 2019 ma che per gli effetti di cui parliamo, cioè gli effetti di sostanziale abolizione della prescrizione entrerà in vigore nel 2020, ha appunto previsto che la prescrizione, c'è quell'istituto per il quale decorso un determinato lasso di tempo un reato non possa essere più perseguito, è un istituto che in ambito giuridico risale al diritto romano, quindi è un istituto secolare che è sempre previsto in diversa misura, ma in tutti gli ordinamenti sia nel tempo e nello spazio, cioè è previsto in Italia, in Francia, in Germania, in Inghilterra, d'altrove. Questo istituto dal 2020 in poi, grazie, si fa per dire, a questa legge non esiste più nel nostro ordinamento. Si è prevista una sospensione della prescrizione del reato dopo il primo grado, il che significa sostanzialmente avere abolito, o come dicevo prima, se mi passate la battuta, assassinato sostanzialmente un istituto di civiltà giuridica. Sì, infatti quello che volevo chiedere era un po' questo, la gente, insomma il messaggio che è passato sui giornali, sui mass media, è stato quasi favorevole a questa, per così dire, abolizione, ma noi addetti ai lavori, come la vediamo, non è proprio così, specialmente voi penalisti, Giulia, senz'altro. Ti rispondo in questo modo, noi possiamo avere una nostra idea che è legata appunto anche alla cultura giuridica, l'opinione pubblica si sofferma in maniera, secondo me, un po' superficiale sull'idea, che ovviamente è stata loro proposta, propinata, forse esatto, grazie Antonio, il termine giusto, senza pensare a questo, se io non sono obbligato, io ho stato, ad arrivare a una sentenza di condanna in un tempo ragionevole, neanche la persona offesa avrà una sentenza in un tempo ragionevole. La parte civile, la vittima, la vittima, molto semplicemente in termini, secondo me, nel termine più immediato possibile, la vittima del reato, adesso il termine di prescrizione, attualmente ancora, almeno per quest'anno, in vigore, impone allo Stato, quando riesce, di svolgere il processo in un tempo più o meno lungo, a seconda, lo sappiamo, della gravità del reato, è legato all'entità della pena, la durata della prescrizione. Ma con la riforma che è stata introdotta quest'anno e che entrerà, di fatto, verrà applicata dall'anno prossimo, che cosa succederà? Che la sospensione della prescrizione comporta che la sentenza possa davvero arrivare anche, come dice noi, nel nostro spettacolo nel 2039 e la vittima aspetta. Oltre alla vittima, ricordiamoci che l'imputato potrebbe essere anche innocente, cioè oltretutto, cioè nel senso... Si presume. 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 L'imputato si presume innocente e quindi potrebbe arrivare ad una sentenza di assoluzione, magari vent'anni dopo rispetto al fatto, o di condanna vent'anni dopo, quando, e questo poi magari lo racconterà meglio Alessandro, come è nel nostro pezzo teatrale, quando ha un'altra vita, quando è un'altra persona. Ma la riflessione che, appunto, perché voi parlavate dell'opinione pubblica ed è per questo che io volevo parlare delle vittime, nessuno ci pensa, ma anche la vittima in questo modo non avrà una sentenza in tempo ragionale. Noi avvocati difendiamo anche... E secondo me è in questo che sta la grande ingiustizia di una modifica del genere, perché è lesiva degli interessi di tutti, dell'imputato, che appunto è innocente fino a prova contraria, della vittima, che si presume essere vittima, non va a vantaggio di nessuno. Solo che questa volta, per cercare di far capire questo messaggio, abbiamo pensato a questo strumento un pochino diverso dal solito. Che è una bellissima iniziativa, ho visto il trailer. Ho visto che Alessandro Brustia è foriero di produzioni letterarie e di blog, ma ce lo spiega lui stesso. Ed è qui che poi nasce lo spettacolo teatrale, che è una cosa nuovissima, direi, per la Camera Penale di Novano. Sì, penso che sia una cosa nuova e speriamo che abbia... Noi ci siamo molto impegnati come Camera Penale perché abbia comunque una risonanza, perché come diceva giustamente Giulia, il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e questo può essere uno strumento, secondo noi, un po' diverso rispetto agli strumenti di cui solitamente noi facciamo uso, come convegni e cose del genere, che poi rimangono magari un po' limitati a una cerchia di avvocati, mentre non è l'avvocato che bisogna convincere. Si suppone, si spera che l'avvocato, su determinate tematiche, abbia già una sua sensibilità, ma è l'opinione pubblica, si spera. La cosa è simpatica in questi sermini perché nasce da un pezzo, chiamiamolo così, non so come definirlo, che io ho scritto per il blog che ho insieme a Emanuele Ruggerone, che è l'autore, che non è parente suo, ma è un mio caro amico da sempre e noi abbiamo questo blog che si chiama Tutto Politik, ho scritto questo pezzo che poi è stato ripreso dal profilo Facebook della Camera Penale e a un certo punto una carissima amica, che è una collega di Torino, che si chiama Paola Savio, mi dice ma è bello, perché non lo trasformi in un monologo teatrale? Detto fatto ho scritto un messaggio a Emanuele, il quale il giorno dopo mi ha sfornato l'arrangiamento teatrale di questo pezzo. Un'ottura, insomma. Una sorta di sceneggiatura. Un monologo, ma comunque... E la storia adesso, non possiamo, come si dice adesso, spoilerare lo spettacolo. E almeno l'inizio. No, l'inizio è questa persona che nel 2039 a ritroso racconta la sua esperienza, racconta la drammatica esperienza di essere l'imputato eterno, perché grazie a questa legge si crea la figura dell'imputato eterno. Ecco, stiamo vedendo appunto il trailer di questo. Avete fatto le cose in grande, finanziato. Quest'anno, esatto, ci siamo permessi un investimento di questo tipo. Possiamo andare avanti nel frattempo. Sì, questa persona, in realtà in questa persona ho voluto, abbiamo voluto, condensare un po' delle tante esperienze professionali che vediamo. Io penso che, di non avere grandi meriti, penso che qualsiasi avvocato penalista possa scrivere una cosa del genere, perché basta mettere insieme le tante drammatiche esperienze che ci passano sotto gli occhi tutti i giorni, perché essere sottoposto a processo è già di per sé un dramma, è già di per sé una sofferenza, è una pena. Prima ancora di eventualmente essere condannato, una persona inizia a scontare una pena, che è quella di essere sottoposta al processo. Se poi questa sottoposizione al processo si perdura sostanzialmente per tutta la vita, perché così, così sembra incredibile, ma così con questa nuova legge sarà, allora capite bene che noi, che noi lo Stato sottopone a una sofferenza una persona che, fino a prova contraria, lo dice la Costituzione, deve essere ritenuta non colpevole, innocente. Ecco, la situazione che si è venuta a creare però è davvero nuova rispetto a che, non un convegno, ma un invito a teatro sostanzialmente. Certo. Chi pensate che possa, possono venire tutti? Allora, possono, devono, dovrebbero, speriamo che vengano tutti. Questo finisce tra poco il trailer, quindi torniamo sulle... Nel senso che, ovviamente, l'evento è aperto e noi l'abbiamo diffuso e divulgato tra i nostri colleghi, perché comunque tratta di un argomento che interessa tutti noi, ma noi speriamo, perché questo sarebbe il nostro obiettivo, riuscire a trasmettere il messaggio alla cittadinanza, alla famosa opinione pubblica... Qui anche i nostri ascoltatori che ci stanno sentendo. Ci tengo a precisare, l'evento è a partecipazione gratuita, quindi non è assolutamente obbligatorio l'acquisto, è necessario l'acquisto di un biglietto. È sufficiente presentarsi il 9 maggio alle 18 al Piccolo Coccia, che è in Piazza Marti, di lato verso il castello. Lo spettacolo verrà preceduto da una breve introduzione e poi ha una durata di circa mezz'ora, la rappresentazione teatrale è vera e propria. Noi speriamo di riuscire a suscitare un minimo di dibattito, di confronto e soprattutto se davvero c'è una partecipazione un po' consistente di persone che magari non sono addette ai lavori, speriamo di avere la possibilità di spiegare, di dare quelle informazioni che magari una persona che sente la notizia del telegiornale e non riesce a percepire e che invece potendoti fare la domanda direttamente... Questo è bene, perché di solito si prendono le notizie così come vengono lanciate e oramai... Le subiamo? Sì, oramai vengono lanciate in mille modi in tutti i media disponibili, per cui davvero anche a volte selezionare, intendere, capire è difficile. Quindi questo imputato del 2039 si trova ancora alle prese con questa morsa. Si trova ancora alle prese con il suo procedimento penale. Ci tengo, se posso fare un passo indietro, a sottolineare il fatto che per questo evento abbiamo ingaggiato, diciamo così, anzi non diciamo così, ingaggiato un attore professionista che è Massimiliano Perticari, che farà, leggerà questo monologo, e ci sono delle musiche originali scritte da Roberto Bassetti e ci sarà anche una parte cantata da una bravissima cantante che è Sonia Belloni. Beh, allora, non posso mancare. Tu non puoi mancare in quanto... Voi non potete mancare. Ah no, no, no. Un spettacolo, diciamo, speriamo a tutto tonno, un spettacolo artistico... Ecco, pensate una cosa, lo dico velocemente, quanto è cambiato il tempo, fortunatamente, devo dire, da quando iniziai io la professione, in cui francamente essere magari, aveva avuto esperienze un po' di spettacolo, di musica, di radio, di altre cose, era guardato un pochino con sospetto, insomma, con diffidenza. Oggi, avvocati penalisti preparati, addentro nella professione, possono e vogliono permettersi di dare all'opinione pubblica, ai colleghi, alle persone interessate, il messaggio sotto questa forma. Per me è una grandissima conquista. E del resto, Antonio, se non lo facciamo noi, se non lo fanno gli avvocati penalisti, chi lo può fare? Noi pensiamo che ci competa proprio, faccia parte del nostro ruolo e del nostro dovere di difensori, di avvocati, di penalisti, di fondere la cultura della giustizia e della legalità. Cultura di minoranza, prettamente di minoranza. Non è che abbiamo idee propriamente popolari, mi rendo conto, però questo non ci impedisce, anzi, forse è uno stimolo ancora maggiore. Confessioni di un imputato nell'anno 2039, 9 maggio 2019, 18, Piccolo Coccia, Piazza Marti della Libertà Novara, Brustia, Ruggerone, Perticari, Bassetti, ingresso gratuito e piccolo aperitivo. Non potete mancare. Siete tutti invitati. Per il piccolo aperitivo. Sì, no, beh, anche prima naturalmente, ma questo aiuta. Il piccolo aperitivo, tra l'altro, è organizzato con una cooperativa che occupa detenuti ed ex detenuti. Ah, ecco, per cui in tema... Ci tengo a dirlo perché per noi è molto importante. Grazie a tutti per l'ascolto e alla prossima puntata. Grazie a voi, Giulia. Arrivederci. Grazie a voi. Arrivederci. Grazie a voi.